Un buongiorno agli amici di Ant, scusate il gioco di parole, un buongiorno a due amici che sono da trovarci dopo essere stati in radio una settimana fa, sono anche i nostri studi di Ant, parliamo di Rosanna Vignarolo e Mario Bianchini, buongiorno, e chi sono? Sono i rappresentanti dell'associazione AFPAC Project che adesso loro andranno a spiegare, un'associazione importante che sta sul territorio, che si occupa di tantissime cose sul sociale, ma io anziché fare io giustamente da introduttore, oltre alla presentazione è giusto che ne parlino loro, Mario il presidente, Rosanna non so il ruolo che ha, vicepresidente, quindi abbiamo il top dell'associazione. Mario, buongiorno, grazie per aver accettato l'invito e raccontaci da quando esistete le finalità di questa associazione. Sì, AFPAC Project è un'associazione di promozione sociale, noi siamo attivi a San Benedetto del Tronto da dieci anni, questo è il decennale, quindi per noi è un anno anche molto particolare. L'associazione ha cambiato un paio di anni fa di denominazione, ma la sostanza è rimasta la stessa. AFPAC Project significa associazione di formazione e percorsi applicati alla comunità, quindi ci occupiamo di iniziative, come diceva lei, soprattutto di taglio sociale, che sono aperte a tutta la cittadinanza. Abbiamo due grandi settori di intervento, uno è la formazione e l'altro è la salute e il benessere. Sono cose importanti con i tempi che corrono. Direi di sì, perché in questi dieci anni abbiamo potuto incontrare quella che è la situazione che è sotto gli occhi di tutti. Certo. Quindi la richiesta di supporto, di intervento di tipo psicologico, relazionale è molto ampia e anche San Benedetto non fa eccezione. Ecco, volevo sentire il vicepresidente Rosanna, anche perché siamo della scorsa settimana, con Luigina Pezzoli, anche per parlare di questo master, che è un po' quella cosa che state proponendo adesso, giusto? Sì, è già partito lo scorso weekend. Fa parte appunto anche della prevenzione, nel senso che noi siamo legati con il direttore scientifico che risiede a Pesaro, la sede principale, AIPAC appunto con il professor Nanetti, che è un docente universitario. E proprio per una questione anche di territoriale, ha dato la possibilità dieci anni fa di aprire una sede staccata. Ha valenza lavorativa come percorso formativo, però quello che noi abbiamo avuto come feedback da chi, dai corsisti in questi dieci anni, è che in qualche modo, adesso sembra esagerato dirlo, ma è un percorso che cambia la vita. Cioè, perché trattando proprio di temi psicologici e relazionali, che investono l'ambito familiare, oppure appunto educativo, perché abbiamo avuto anche, abbiamo persone che fanno parte del settore scolastico, permette appunto proprio di aumentare una consapevolezza di quello che sono le nostre dinamiche relazionali e quindi modulare quelli che in qualche modo diventano un po' i nostri punti critici. E poi in questo quindi è un percorso che crea anche rete, perché tante volte chi poi si è formato ha avuto modo anche all'interno del gruppo di far sbocciare progetti e in questo noi come associazione... Diciamo il passaparola. Esatto, e come associazione è un po' questa anche la nostra mission, supportare per quanto c'è possibile con gli spazi o anche appunto con la pubblicità, tutti i progetti che riteniamo validi e solidi che si ancorano nel territorio, soprattutto. E anche come libero professionisti noi appunto è quello che anche cerchiamo di fare, di unire le forze, perché soprattutto oggi nel nostro ambiente, cioè quello che stiamo vivendo, fare rete diventa una risorsa. Nuovamente col Presidente, anche perché quando la associazione esiste da dieci anni vuol dire che ha una valenza, perché si cresce di anno in anno, si cerca di dare, non il massimo, però tutta una serie di cose che vanno con il percorso fatto. Quindi se si arriva a dieci anni vuol dire che sul territorio, oltre ad avere un certo nome, tra virgolette, avete anche un perché, giustamente con degli obiettivi e già come diceva Rosanna, con una rete già di collaboratori, di presenza abbastanza capillare. Sì, una delle collaborazioni di cui andiamo piuttosto fieri è quella per esempio con l'associazione Centrofamiglia, legata alla diocesi, con cui da anni siamo presenti attraverso delle collaborazioni permesse anche grazie al collegamento con la bottega del Terzo Settore e la Fondazione Caris, siamo stati presenti come professionisti e come associazione, che ne so, nelle parrocchie, con gli sportelli d'ascolto nella scuola, dove abbiamo potuto tastare il polso, come dicevo prima, di una situazione in particolare per quello che riguarda la situazione delle famiglie, delle coppie, del rapporto genitori e figli, molto delicata in moltissimi casi. Sì, sappiamo anche perché voi siete venuti grazie anche all'amicizia e alla collaborazione col Centrofamiglia, col Presidente Farinelli che già quando venne ci illustrò quelle che sono le problematiche quotidiane che forse nessuno sa e nessuno sente, però ci sono, esistono e vanno sempre a crescere. Sì, sì, il Centrofamiglia in questi anni si è posto anche come uno dei punti di riferimento per l'accoglienza rispetto a queste domande e adesso sta cercando di portare questa sua progettualità avanti, anche se non è una cosa semplice, se pensiamo che noi siamo psicologi, se pensiamo che la legge per lo psicologo scolastico giace in Parlamento da più di dieci anni e nessuno sembra volerne prendere carico, adesso vediamo dopo quello che è successo la domenica scorsa che cosa succederà. Qui sono tante persone in attesa. Direi di sì, ma anche nel campo della salute e del benessere, noi aspettiamo che si possa compiere qualcosa che permetta alla nostra professionalità, che ormai esiste da 30 anni, di poter essere apprezzata anche oltre a quello che è il luogo comune, per cui lo psicologo si occupa delle persone solo nella misura in cui sono delle malate di mente. Non è così, in Europa non è così, in America non è così, in Italia resiste ancora questo stigma per cui varcare la soglia dello studio di uno psicoterapeuta o di un'associazione che fornisce i servizi di supporto e di consulenza è ancora molto difficile. Questo anche perché c'è una cultura che va modificata e uno degli scopi, come diceva Rosano, una delle mission di una nostra associazione è cercare di avvicinare con più semplicità le persone a un tipo di supporto e di aiuto, intanto che non necessariamente, questo è un altro luogo comune, costa, bisogna avere conti in banca, alla misura di cittadino. E l'altra cosa è che non è necessario come altro luogo comune entrare nello studio di uno psicoterapeuta per dieci anni. Oggi ci sono tecniche e modalità che permettono di mettere a fuoco le problematiche molto rapidamente e poi lasciare alla persona la decisione di approfondire, non approfondire, abbandonare, ritornare dopo un po' di tempo. Quindi questo è il grosso, come si dice oggi, il core business dell'associazione. Occuparsi di queste problematiche e sensibilizzare la cittadinanza ad esse. Una cosa di cui andiamo particolarmente fieri è per esempio un corso che noi rivolgiamo non solo agli operatori del settore ma ai genitori che ospitano purtroppo, malgrado loro, in casa una disabilità in uno dei figli. Abbiamo un corso che insegna l'utilizzo del computer che oggi si usa spesso per cose anche non del tutto consigliabili. Ecco, l'uso del computer per sorreggere l'apprendimento dei bambini con una diagnosi, disturbi dell'apprendimento o delle iperattività. Ecco, abbiamo un'iniziativa che è avanti da anni e che insegna appunto a utilizzare il computer per sostenere l'apprendimento dei bambini con difficoltà. Quindi diciamo una serie di servizi che riuscite a dare sul territorio. Volevo solo che diceste la vostra sede che è a Sametto in Via Murri, quindi chi ha bisogno o che eventualmente lo ritiene opportuno può rivolgersi a voi. Via Murri? Allora, noi abbiamo la sede operativa e legale in San Benedetto, in Via Murri 26, proprio in una zona adiacente alla casa di cura Stella Maris. Chi volesse informazioni sulle nostre attività può trovare un sito internet che abbiamo appena finito di ridisegnare, che è decisamente appetibile, carino, www.afpacproject.it e poi ci sono anche tutti i nostri riferimenti mail e di telefono. Invitiamo tutti coloro che hanno interesse a contattarci. Come diceva Rosanna, la cosa che è iniziata e che ancora teniamo aperta per un po' di tempo è la possibilità di iscriversi al Master. Il Master, che ha già il nostro piccolo gruppo, che teniamo a sottolineare, è piccolo per scelta, per poter seguire gli allievi. Il Master triennale abilitante in counseling può ospitare ancora alcune iscrizioni, quindi chi volesse può contattarci e chiedere tutte le informazioni del caso. Prego, volevi aggiungere qualcosa? Sì, solo che è appunto l'invitare a seguire sia la pagina Facebook e il sito perché ogni mese noi diamo vita a nuovi corsi esperenziali. Quindi per dire appunto adesso, proprio nel mese di marzo, faremo appunto degli incontri di sostegno sul femminile e sulla donna nel ruolo appunto della mamma. Anche perché è giustamente in combinazione con questa donna e il mese è giusto. E' esatto, quindi facciamo che seguiamo una specie di calendario psicologico, quindi accompagnare proprio la famiglia o le persone a una crescita mensile. E quindi appunto tutte queste informazioni si possono trovare consultando la rete. Ok, io vi ringrazio della visita, vi faccio di bocca al lupo, sperando di essere di aiuto e di sostegno anche per voi, di averlo fatto con il centro famiglia. Grazie della visita e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Arrivederci.